Cari amici e cari amiche, per questa serie di momenti di storia dedicata alla fotografia ci occuperemo oggi del nesso che nel tempo si è stabilito tra le immagini fotografiche e la ricerca storica, in particolare per quanto riguarda il racconto della guerra. E di fatti, fin dall'origine, fin da quando è stata inventata la macchina fotografica, cioè nel 1839, la fotografia ha documentato sempre quello che avveniva sui vari fronti di battaglia che hanno inseguito, che hanno insanguinato, anzi, la storia del nostro mondo. La macchina fotografica è l'occhio della storia, ha affermato Brady, che sapete era il fotografo ufficiale della guerra civile americana. È vero, è vero, anche se occorre molta cautela per valutare il peso di questa affermazione. Nella guerra di Crimea, ad esempio, quella documentata dalle straordinarie immagini di Roger Fenton, che sono quelle che oggi vi proponiamo, la realtà riprodotta era artificiosa, era quella decisa dal fotografo, era il frutto della sua regia. A causa dell'ingombrante attrezzatura, c'era un apparecchio di 30 kg, il treppiede, le lastre di vetro, i falaconi di sostanze chimiche, era infatti impossibile catturare l'evento nel suo farsi, far scattare l'otturatore al momento giusto. Il combattimento vero e proprio, quindi insomma il cuore della guerra, quella zona in cui si entrava solo per uccidere e per farsi uccidere, che è l'essenza ultima di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, era come dire al di là della portata della macchina fotografica. La scena era sempre pazientemente costruita dal fotografo, anche e soprattutto quando si trattava di morti in battaglia. Oltre agli impedimenti tecnici, oltre a queste oggettive difficoltà, a rendere precario il rapporto tra la fotografia e la realtà della guerra, c'erano anche i divieti imposti dalla censura. Proprio nella guerra di Crimea, di cui stiamo parlando ad esempio, era espressamente vietato fotografare i morti, i mutilati, i malati, insomma bisognava dare della guerra un'immagine edificante, un'immagine rasserenante. È così che oggi le fotografie di Fenton, ai nostri occhi, sembrano trasformare quella che fu un'orrenda carneficina in una sorta di scampagnata per uomini soli. Tanto per intenderci, nella battaglia della Cernae, in cui le truppe piemontesi furono impegnate strenuamente nei combattimenti contro i russi, i cadaveri degli amici mischiati a quelli dei nemici servivano tutti insieme a origine delle sinistre trincee di carne umana. Ecco, questo orrore sono le pagine di un romanzo, una inutile follia di Gino Tarchetti, che ce lo raccontano. Non certo le fotografie di Fenton. Bisognerà aspettare la guerra civile spagnola, 1936-1939, e l'avvento della macchina fotografica leggera, di una macchina fotografica leggera come la Leica, per poter chiedere alla fotografia un racconto plausibile della guerra. Grazie a tutti.